La luce e l'ombra, il bene e il male, opposti che arricchiscono il senso della realtà che ci circonda. È proprio questo il messaggio che le otto coppie di artisti nisseni vogliono lanciare all'interno della mostra collettiva bipolare, in esposizione nell'atrio della Biblioteca Scarabelli dalle 28, 29 e 30 novembre. Sono dieci le opere d'arte contemporanea nate dalla collaborazione di artisti di diversa estrazione, pittori, scrittori e fotografi insieme per realizzare un'unica opera, in cui pittura e scrittura, immagini e giochi di luce generano emozioni racchiuse nell'opera. Nasce intanto dall'Associazione Eureka, è un'associazione che è stata costituita a luglio e già abbiamo fatto fin da adesso più di 11 eventi, eventi che mirano all'arte contemporanea. Il nostro scopo è appunto quello di promuovere l'arte, soprattutto quella contemporanea, e di dare spazio ai nostri artisti, di esprimersi al meglio. E questa è stata una scelta appunto di poter fare questa mostra, è unire vari artisti e dare voce alle loro idee e al loro concetto di bipolare. Cos'è il bipolare? Il bipolare è praticamente, lo possiamo intendere su tutti i campi e sui vari aspetti, e praticamente sono due elementi contrari, opposti, che si uniscono per un unico scopo o per un unico materiale. Ad esempio, luce ed ombre, i vari aspetti anche del carattere, proprio il classico bipolare dell'animo, e il rotto e il sano, e l'amore e l'odio, e quindi stiamo cercando appunto di rappresentare queste due entità che si uniscono. Infatti la particolarità anche di questa mostra è che sono due artisti per un'unica opera. I nostri artisti ci sono praticamente uniti di due estrazioni diverse, dal pittore insieme al fotografo, oppure insieme all'arte visual, due artisti comunque quasi diversi per caratteristiche che si uniscono in un'unica opera. Le cariche di due opposti generano energia, quella stessa che la mostra intende trasmettere, lanciando un chiaro segnale. Il messaggio che vuole lanciare la mostra è quello di comunque educare artisti e non collaborare tra loro per creare qualcosa insieme, anche per dar vita ad una sinergia tra i vari artisti nisseni e anche esteri.